prima di cominciare il video ragazzi voglio ricordare a tutti che potete scaricare gratuitamente i primi capitoli dei miei libri dal mio sito buona lettura ragazzi un particolare ringraziamento a tutti quelli che stanno facendo acquisti dal mio negozio online grazie ragazzi grazie a voi ragazzi oggi dopo tantissimo tempo per la prima volta vedo il mare abbastanza caldo quindi ho detto non c'è tanto vento non ci sono tante onde voglio andare a provare a pescare sto provando a pescare con una canna abbastanza corta col polinello di tre metri o del filo del 25 in bovina un galleggiante auto costruito da me la codetta del filo del 20 anzi due codette innescate con ami del 10 voglio provare a pescare col pane le condizioni sono calme e tanto non lo rivedremo così quindi voglio approfittare e vedremo cosa succederà mai però ricordiamoci ragazzi prima di iniziare a pescare dobbiamo pasturare per far attirare il pesce ok e vediamo come va a finire ok ragazzi bene con questo il pesce in diretta è rosaria brava rosaria ottima scelta sicuramente è un seppolo eh vediamo con noi è un seppolo guardate che bel seppolo ragazzi c'è che sta cercando di scappare chissà rosaria c'è riuscire a crescire calma qua ragazzi Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tanti alcuni mi hanno chiesto un pesce in diretta e ho voluto accontentarti ragazzi vorrei salutare però anche in modo particolare leonardo zane ciao leonardo simone garracusa e poi tanti auguri in modo particolare a un paese antonella che sono 25 anni di mattimone e anche un altro pesce in diretta a rosaria a questo punto mi raccomando seguite sempre il mio canale e come vedete ci sono sempre delle novità vai ciao a tutti ragazzi ciao ciao